Disney Junior presenta i magici momenti di Topolino e gli amici del rally Il team è a Madrid per l'annuale Road Rally Ma i voli di Di Nini e Paperina si sono distrutti È il momento del piano B Un furgone contro un'auto da corsa È una sfida impari, perdereste di sicuro Volete scommettere? Sì, vogliamo fare che... Se vinciamo noi la gara Voi due lamerete tutte le auto da corsa dell'officina A mano! Ok, d'accordo Ma se vince uno di noi dovrete lavarle voi Affari fatto! Oversi! Su, il furgone! Vai! Partiti! E c'è subito un testa a testa fra Topolino e Paperino E fra Orazio e Pippo Seguono Minnie e Paperina E sono già tutti alla Puerta d'Europa! Vino in cima! Dobbiamo accelerare, Minnie Modalità elicottero E ora saliamo! Scendiamo! Il mio toro torna subito qui! Si fermerà solo quando attraverserà il cerchio Sali, Pietro e il torero! Ti aiuteremo noi a ritrovarlo Ah, che bello Molto grazie! Ehi, fermati al Marcos! Eh? Rallenta un po', bestione! Qui serve un'esperta? Cowgirl! I-ha! Su, bello! Calma! Oh! È il Marcos! Attento alla... Bancarella! Ma questo! È il cerchio che usa Pietro nello spettacolo! Ben salto! E un bel atterraggio! È il Marcos! È il Marcos! Oh, grazie al cielo sei sano e salvo! E senti tutti questi applausi! Sei una star! Cos'è successo? Voi due avete vinto la gara grazie a questo bel maxi-toro! Oh, la meriti tu, la coppa e il Marcos! Quindi è tutta tua! Bene! E ora si balla! Paperino! Hanno vinto le ragazze! E questo vuol dire... Che bucchia goglia! Il furgone delle aiutamiche ha condotto Minnie e Paperino alla vittoria mentre Topolino e Paperino sono finiti nell'autolavaggio! Continua a guardare altri magici momenti e a seguire Topolino e gli amici del rally a Disney Junior! Mira, la chute sui... E institute! Amici! Dare!